L'impegno è conferito al riconoscimento del lavoro svolto come risposta ai bisogni primari di nutrirsi, di vestirsi, di curarsi, di trovare compagnia, di realizzare le gare tra le persone che questa opera ha voluto trovare. Meritevole anche stata vicenda, struttura e in essere, di portare tutte le attività solo su volontariato. Per questi motivi si conferisce il premio della nottata del 2003 alla Casa della Casa di Regno.